ciao buongiorno a tutti martedì questa mattina non abbiamo fatto la diretta dedicata ai vinili ma la faremo domani insomma abbiamo spostato giorno solo per questa settimana perché come sempre tante cose si si mettono una sull'altra quindi ci sono tante cose da fare ma non mi sono dimenticata il nostro appuntamento del martedì mattina in questo caso domani mercoledì mattina sempre alle 9 ore 9 sono andata a cercare qualche vinile anche perché insomma a fine settimana ho iniziato a rimetterli a posto tutti nelle ricatalogarli quindi un gran lavoro sono riuscita a fare proprio una minima minima parte e allora mentre li catalogavo insomma hanno trovati tantissimi che mi sarebbe piaciuto riascoltare e così ho deciso di parlare domani di vinili che hanno a che fare con le donne e con le donne che non lo so magari è da un poco nel che non le ascoltiamo o magari che non lo conosciamo e quindi mi dà l'opportunità insomma di farvele conoscere tra l'altro all'interno di uno di questi vinili c'è pure una cover che magari passeremo domani beh chi sono queste donne senza farlo apposta tra l'altro le ho prese tutte con i riccioli con i capelli mossi non so perché ma non insomma è arrivato così allora la prima è Irene Fargo non so se ve la ricordate con l'album la magica la voce magica della luna ecco vedete quindi lei è una che andremo ad ascoltare poi abbiamo Fior Daliso questo è uno dei album storici anche uno dei brani storici non voglio mica la luna un brano tra l'altro di Fornaciari di Male Passo e Albertelli e andremo a scoprire anche qualcosa in più di questa canzone e poi l'ultima è lei lei è Rossana Casale con la via dei misteri e dicevamo che proprio qui all'interno di questo album vedete c'è praticamente la cover sitting on the dock of the bay che andremo anche ad ascoltarci domani così vedremo un po come la diciamo realizzata quindi non mi resta che darvi appuntamento a domani mattina è cambiato solo per questa settimana al giorno della nostra diretta dedicata ai vinili domani mattina come sempre qui su TRS radio a partire dalle ore 9 ciao un abbraccio vi aspetto e naturalmente anche loro così vi aspettano ciao